Oggi come rappresentanza regionale della FIMG e della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale siamo venuti in quinta commissione per esporre la criticità che riguarda la carenza dei medici di medicina generale che riguarderà e riguarda la nostra regione oggi e per i prossimi 6-7 anni. Abbiamo provato a portare delle soluzioni e delle proposte che sono state discusse in maniera serena e speriamo di avere dei risultati e dei riscontri positivi visto l'interessamento dell'assessore Verì e del direttore Damario. La principale criticità è la carenza dei medici di medicina generale, mancano per diversi motivi sia in termini numerici ma mancano proprio perché c'è una crisi di vocazione rispetto a questa professione perché ha perso davvero attrattiva per motivi principalmente economici ma soprattutto perché è venuto meno quello che era il ruolo sociale del medico di medicina generale e perché è diventato difficile oggi fare questo lavoro ma non come difficoltà clinica di gestione delle problematiche strettamente mediche ma per l'enorme carico di lavoro burocratico che ci troviamo ad affrontare e abbiamo chiesto appunto che si vada avanti con la stesura dell'AIR, dell'accordo integrativo regionale proprio per permettere la definitiva formazione e istituzione di quelle forme aggregative che sono le UCCP e le FT in primis e l'organizzazione poi delle case di comunità e tutto quanto previsto nel noto decreto ministeriale 77.